buongiorno a tutti siamo qui oggi per trasmettervi diretta questo match che vede scontrarsi l'asso avellino contro l'irpina sports categoria 2013 questa partita è valevole per la coppa carnevale 2024 provano a risalire se la perde il numero 20 balla ancora possesso con la testa il 57 ancora manco però da appoggiarla per tedesco il tiro dalla distanza da parte di sorrentino rimessa per l'irpinio in alto non ci arriva con la testa manco il portiere blocca al sicuro e sceglie di ripartire dal basso interrompe bene sorrentino dalla distanza ancora l'irpina con sorrentino prova a metterla in mezzo al volo tedesco segna l'1 a 0 al quarto minuto di gioco molto pericolosa riesce il vincitore il difensore a maglia abbianta e si vuole neanche la rimessa laterale nostro calcio anche dopo bene tedesco provo a saltare un difensore bloccato la giuditta grande tiro qui ancora l'asso avellino prova ad attaccare rimessa per l'asso avellino la palla è ancora lì col fatto che ha provato orcolano provano a risalire i ragazzi dell'irpinia appoggia per sorrentino troppo lungo si arriva prima del giudice ancora il tiro da parte del numero 42 ballarano cosa ha rischiato l'asso calcio ancora sorrentino sorrentino prova il tiro troppo bene l'azione della distanza del giudice palla è ancora lì blocca in due tempi corner ancora per l'irpina il tiro di corso sorrentino lo colpisce a destra del difensore ecco il gol al volo porta vita ambrosio gol favoloso ancora tedesco parte l'asso calcio recupera bene l'irpina tedesco dalla distanza traversa piena la palla è ancora lì Pascuariello viene spinto all'avere un'ora ancora l'irpina questa è in avanti c'è proprio Pascuariello davanti del giudice non si lascia intimo morire tanto siamo quasi a 22 quindi ben inoltrati con la distanza traversa piena la palla è ancora lì Traunfaglia cade a terra termina quindi la fine di questo match vi ringrazio di essere stati con noi ci vediamo alle prossime partite grazie a tutti comigo Grazie.